in pausa pensate al nemico c'è un contenitore c'è un posto di contenitore resta solo un operatore alleato hanno annunciato ad appropriarsi del contenitore c'è un mappe di merda mai di dirlo c'è un posto di scala c'è un posto di contenitore c'è una zona controllata dalle aziende dite il rischio di prendere il contenitore proteggete il contenitore di biorismo c'è un posto di scala cazzo la visione è fallita